Guarire, creato il nome Aro. E la gente rimase a casa, e lessi libri, e ascoltò. E si riposò e fece esercizi, e fece arte, e giocò. E imparò nuovi modi di essere, e si fermò. E ascoltò più in profondità. Qualcuno meditava, qualcuno pregava, qualcuno ballava. Qualcuno incontrò la propria ombra, e la gente cominciò a pensare in modo differente. E la gente guarì. E nell'assenza di gente, che viveva in modi ignoranti, pericolosi, senza senso e senza cuore, anche la terra cominciò a guarire. E quando il pericolo finì, e la gente si ritrovò, si addolorarono per i morti, e fecero nuove scelte, e sognarono nuove visioni, e crearono nuovi modi di vivere, e guarirono completamente la terra. Così come erano guariti loro. Così come erano guariti loro. Grazie a tutti.